Nicolò Giorcelli, difensore del PA, oggi 1-1 con il Chisola, ti sei ritagliato una maglia da titolare, hai fatto una grande partita nel pacchetto arretrato, insomma tu come l'hai vissuto nel campo? L'ho vissuta molto bene, oggi abbiamo provato a cambiare qualcosa, soprattutto in difesa, abbiamo giocato a 3 e secondo me è stata una buona idea anche perché ho visto che come squadra siamo stati molto solidi, peccato che abbiamo preso poche occasioni, in quelle poche occasioni abbiamo preso un gol. Non era facile comunque riorganizzarsi anche perché oltre all'assenza di Marchetti è arrivata anche quella degli ultimissimi giorni di Toss, quindi riorganizzarsi però insomma avete cercato di farvi trovare pronti? Sì, sì, non è stato facile però sicuramente anche gli assenti sono stati molto presenti sia in campo che da fuori, ci hanno aiutato molto sicuramente anche noi giovani che abbiamo giocato di meno, infatti poi si è visto anche in campo, grazie all'unione che abbiamo avuto tra di noi siamo riusciti comunque a portare avanti una prestazione importante. Un dacune a cuore e polmoni a centro campo, oggi però ti ha fatto il braccetto, il braccetto di fianco a te, insomma avete battagliato insieme in difesa. Sì, sì, ogni tanto non mi ascolta e litighiamo però devo ringraziare il lavoro che ha fatto perché mi ha aiutato moltissimo a difendere anche l'altro braccetto, Paolo Ropolo, insieme oggi mi sono trovato veramente bene. Senti, questo punto secondo te può darvi fiducia soprattutto per la prestazione che avete fatto anche poi per i prossimi impegni? Sicuramente, secondo me bisogna ripartire da questo atteggiamento, dalla voglia di vincere e da questa prestazione, ovvio però bisogna cercare di dare qualcosa in più perché i tre punti ormai diventano fondamentali e dobbiamo buttare a quello.